Nukouche sur le cote gauche, quadro che raffigura un nudo femminile realizzato nel 1917 dall'artista livornese Amedeo Modigliani, è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per 157,2 milioni di dollari. Nonostante l'enorme cifra raggiunta, Nukouche sur le cote gauche è solo il quarto quadro più costoso nella storia delle aste. Il record è stato fissato il 15 novembre 2017 dal Salvatore Mundi di Leonardo da Vinci battuto per 450 milioni da Cristis. Nukouche sur le cote gauche rappresenta l'unico nudo orizzontale di Modigliani contenente l'intera figura all'interno della tela. Dopo la sua realizzazione il quadro fu censurato all'esposizione delle Gallerie Berthet, Wail di Parigi, perché ritenuto dall'autorità francesi un'opera oscena. Grazie per la visione! Grazie per la visione!